meraviglioso Proust aveva la Madeleine e vedeva Combré e lì si aprivano mondi noi vediamo la Calabria proprio tutti amano mangiare calabrese tutto quello che mi piace, il cinema è l'enogastronomia per cui mi sento finalmente a casa come oggi mangio calabrese e mangio bene da piccolo, paese mio di Torre Melissa, provincia di Grotone conquistiamo con i nostri paesaggi enogastronomici chiaramente grazie alla volontà del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria con l'assessore Gianluca Gallo il direttore Iiritano